Un gran gol da calcio di punizione, difesa non proprio impeccabile. Il gol era nell'aria e puntualmente è arrivato. Una parabola meravigliosa, assegnata direttamente su calcio di punizione con una parabola splendida che ha terminato la propria corsa in fondo alla rete. Traiettoria fantastica, il quartiere avrebbe avuto bisogno di un miracolo per arrivare.